benvenuti da Piero Gipardo e Giosè Altafini, ciao Giosigno ciao Pier, che invito mi hai fatto, ti ringrazio perché oggi c'è da divertirsi il Kinter è una squadra della tradizione ovviamente leggendaria bello il tifo, da una parte e dall'altra ci sono le condizioni migliori per un grande spettacolo via la gara pallone perfetto per un colpo di testa avvia Senezzi buon tentativo ma non è riuscito a colpire bene non ha paura di provare e l'ha dimostrato anche in questo caso Montari che botta ma che bel tiro ma la pressione del difensore non gli ha permesso di prendere bene la mira cross in area ci sono conquistati un altro angolo grazie alla pressione questo sarà un altro angolo però non dare continuità la pressione prova il tiro prova il tiro presa sicura quella del portiere conquista molto bene il possesso di palla pazzini prova la salina ancora siamo in area di rigore ma ne chi è difficoltà qui per il portiere anche se poi il difensore è riuscito comunque a spazzare via l'intari nell'area occhio alla manovra d'attacco siamo in area buono intervento del difensore che spazza via in palo laterale è una difesa proprio bene sì è una bella combinazione perché il gol controllato senza problemi questo pallone può trasformare l'azione in offensiva spinti in avanti arbitro dice che può bastare si chiude così il primo tempo ripresa che ha avuto inizio speriamo di vedere altri 45 minuti di grande spettacolo Sarate poteva starci il tiro ma l'esecuzione non è stata l'attezza ha tentato il tiro ma non è riuscito a indirizzarlo come avrebbe voluto piuttosto vicini all'area di rigore ci sono molte opportunità da lì di testa un attivo davvero da dimenticare sulle palle alte è sempre pericolosissimo pericolo può tirare palla che termina all'arco oh si capiscono al volo riceve palla 1-0 1-0 eccolo qui che è arrivato il gol tanto atteso che precisione chirurgica il portiere si è disteso ma la palla è finita giusta nell'angolino ok saltatori dentro arriva il tischio dell'arbitro dopo 90 minuti una grande prestazione da parte di tutta la squadra la vittoria è la migliore ricompensa ma anche l'abbraccio dei tifosi racconta molto di questo trionfo grazie a tutti